E' morto la scorsa sera a Milano Andrea Brambilla. Il commissario Zuzurro del duo con Gaspare aveva compiuto 67 anni lo scorso 21 agosto ed era gravemente malato. A darne notizia l'attore Nino Formicola, il suo compagno artistico da quasi quattro decenni. Lombardo Vero aveva avuto successo in tutta Italia e oltre. In Roma, la capitale, era diventata città d'adozione. Il TG9 lo incontrò esattamente tre anni fa. Ma scherzava sempre, sempre, anche durante l'intervista. Dopo quello che ha detto Bossi sull'SPQR, sono porci questi romani, che cosa ne pensate voi? Quanti anni hai? 38. Cosa fai di bello nella vita? Il giornalista. Allora fammi un'altra domanda per favore, grazie.